scusa maritesi tu telefono a quest'oro ma su tante tu mi puoi capire hai scoppiato a guerra a bandarella sta murendo e ho probleme mo tenchi nu c'ha facci ci un che non c'ha ness'ossession e mo non c'è nge ci un fatica a me tie ma sa pagaggia stonguaiat e ti amma casa senza scuona perché purtroppo a casa c'ha maritira a bandarella di notte sta cucina con me affrizione e tos trima na porta a ferie non tenka mange ci un luogne sto scassando tutte strade sta città spurti la promoganda casa navacusi bandarella di notte ma fa e sauri spurti la promoganda casa navacusi bandarella di notte ma fa e sauri ma fa e sauri ma fa e sauri ma fa e sauri non c'ha nessuno 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 fatica a me tie ma sa pagaggia stonguaiat e ti amma casa senza scuona perché purtroppo a casa c'ha maritira a bandarella di notte se fu un giro ma fa e sauri ma non c'ha nessuno non c'ha nessuno non c'ha nessuno che sto scassando le strade in questa città spurti la promoganda casa navacusi bandarella di notte ma fa e sauri spurti la promoganda casa navacusi bandarella di notte ma fa e sauri bandarella di notte se fu un giro ma fa e sauri ma fa e sauri non c'ha nessuno non c'ha nessuno che sto scassando tutte strade che sta città spurti la promoganda che sarà bacusi bandarella di notte ma fa e sauri spurti la promoganda che sarà bacusi bandarella di notte ma fa e sauri bandarella di notte ma fa e sauri ce sarà a tutti Grazie a tutti.